La legge che ho scritto è sacrosanta, voglio dire, analogico è digitale, analogico è antico, è superato, è sorpassato, digitale invece è moderno. Per fare un esempio, la sinistra è analogica, la destra è digitale, per esempio, no? Sì, però Ministro, molti le contestano il fatto che la sua legge rappresenterebbe un sancire in monopoli già esistenti anziché risolvere il problema, in particolare di favorire Mediaset. Ma questo mi consente, voglio dire, è detrologia, voglio dire, pure a scuola, quando uno andava a scuola io diceva sempre, vabbè, ma perché c'hai tutti i quattro, un pagella, cinque, quella professoressa mi ha preso sotto occhio. E che cosa ne pensa, scusi, del rimprovero del Presidente della Repubblica Ciampi sulla sua legge? Hai pensato di fare qualche modifica? Modifiche, non so, in Argentina o la Spagna, non so dove prevenerei, però le modifiche in Italia sono illegali. Non mi risulta? No, le modifiche sono illegali, lo dico subito, le abbiamo appreso tutti quanti da ragazzini quando c'avevamo il motorino a 14 anni, diceva io che faccio, io faccio una modifica, diceva così, diceva no, non ne la puoi fare perché se no uno gli ha fatto, un amico mio, una modifica, hanno fermato la finanza e l'hanno sequestrato. Io penso che ce l'ha intero un po', ministro. La modifica, caro Ciampi, mi dispiace per te, però non la possiamo fare, la legge è stata fatta così, è stata impacchettata in questa maniera, se vede che serviva così, voglio dire, non è che posso stare qua a fare modifiche, insomma. Posso dirle francamente quello che penso, ministro, sentendola parlare? Ci mancherebbe, scusi, è certo. È come se ogni parola che pronunciasse desse adito sempre di più alle polemiche che ci sono di quelli che l'accusano che questa legge non l'avrebbe scritta lei? Ne parla come se non conoscesse assolutamente quello che c'è scritto sopra questa legge? Ma ci mancherebbe, ma come se non lo sapessi? Lo so perfettamente cosa c'è scritto, ma tutti quanti pure voglio dire... Anche Storace del suo partito ha detto questa legge non l'ha scritta lui, perché la conosce forse? Io non mi voglio far prendere da queste polemiche di va a morire ammazzatismo, mi lascio, voglio restare al di fuori di questa cosa, ma insomma è veramente, è pazzesco, uno sta lì, firma la legge, tutti quanti addosso, andiamo un po', è su, non mi sta bene, anzi, spegnete le camere, guarda, hai spento? Non posso parlare francamente, c'è in confidenza, mi sembra una ragazza sveglia, per cui ti voglio dire, io non ne la faccio di bugie, per cui voglio dire, io sta legge, è vero che non l'ho scritta, non ho manco letta sempre qui, ho provato a leggere, francamente ne la faccio, mi metto lì la sera, mi casca la testa, vedete, nasce cagna, legge sta cosa, insomma... E la piocco? E la piocco, certo, voglio dire, è pazzesco. Allora, fammi, te mi fai, mi potresti fare una cortesia, mi potresti essere molto utile, mi faresti un riassuntino, eh, desta legge, una specie di bignami, insomma, fai 20, 20, 20 pagine, mi spieghi quello che è, e visto che ci stai, mi scrivi anche, visto che mi hai fatto delle domande che mi hanno messo anche in imbarazzo, sinceramente, ora te lo posso dire, la camera è spente, mi scrivi un po' di domande difficili, eppure delle risposte di fianco, eh?